Quando dovete caricare delle informazioni relative alla traccia, cioè al percorso che volete fare sui vari dispositivi che siano fisici, per dispositivo fisico intendo qualcosa che è pensato puramente per l'uso outdoor, quindi anche tipo i tablettini che hanno le mappe già integrate e così via, un navigatore diciamo evoluto, o che vogliate caricare queste informazioni sullo smartphone, dovete utilizzare, quindi è un dispositivo che può avere molti usi, dovete utilizzare un formato particolare. Ne esistono di diversi, ovviamente se parliamo di dispositivi dedicati a volte hanno anche dei formati particolari, qui non vi ho citato, ma in genere questi formati vanno bene per tutto, nel senso che sono formati facilmente convertibili in altro. Il primo è il GPX, che è un GPS Exchange Format, cioè è un file XML, è un file di testo che è scritto in un certo modo, che contiene le informazioni in formato solo testo, e questo formato, dopo eventualmente lo posso anche far vedere, contiene le informazioni di posizione e non solo, perché le ultime evoluzioni tengono anche il battito cardiaco, la potenza e così via. Ed è un formato di testo, quindi può essere tranquillamente utilizzato in quasi tutti i programmi. Poi, allo stesso modo, esiste il TGX, che è la versione del GPX della Garmin fondamentalmente, che è comunque un formato standardizzato, in XML anche quello. E poi ne esiste un terzo, che sono i file fit, che trovate ad esempio, tipo io a Brighton, quando chiudo la sessione, mi genera un file fit dentro la cartella, oppure il Forerunner, non so dove è, magari ce l'ho qui che è questo, quello che ho io. Questo qua, anche questo, fa i file fit nella cartella quando ho finito di leggere. Sono dei file che invece non sono di testo, sono binari, però sono standard. Quindi anche quelli, per file standard, di formato standard, intendo che è un formato che è definito e il cui formato è noto. Cioè, nel senso che non devo inventarmi cose strane per poterlo analizzare. Semplicemente, il formato in cui è fatto è pubblico e quindi chiunque può scrivere dei software per poterlo elaborare. Per l'appunto, vi lascio qualche software utile, qualche nome utile, per poter editare e convertire le tracce GPS. GPS Bubble è una manna, nel senso che converte praticamente tutto. Adesso, vediamo qua. C'è anche a vedere. C'è la tabellina. Praticamente converte tantissimi formati possibili, anche di cose che io sinceramente non ho mai visto. Però, diciamo, se lo volete convertire un file fit in GPX, con questo lo fate senza problemi. Quindi, diciamo, questo è un toolkit molto utile. Poi, GPX Editor, che è un software per modificare i file GPX. Come vedete, non so l'indirizzo a memoria, ma basta andare su Google e li trovate. No, non è questo. Magari vi mando... È questo qua. Questo qua. Posso andare a mettermi i metadati, le cose sui waypoint, per posizionarmi, diciamo, la sequenza dei punti. Ed è utile per ritagliare eventualmente dei... I file GPX. Poi, vabbè, se dovete creare delle... Allora, una cosa che non vi ho detto, adesso magari la vediamo un po' in dettaglio, è OpenStreetMap, che non so se ne avete mai sentito parlare, ma è praticamente un progetto di mappe libere. E permette a tutti di caricare delle tracce e di aggiornare la mappa in tempo reale. Per fare quello si usano due programmi, che sono JOSM, che è proprio il programma per modificare OpenStreetMap, e un plugin che si chiama edgpx. E questo vi permette anche di modificare i vostri file GPX. Poi, un'altra cosa molto comoda è il GPX Studio, che è un editor online, facciamo un allow così, è un editor online direttamente del GPX, quindi io vado qua, posso andare, che so, a fare il draw, e mi vado a... Addirittura mi prende le strade, sono fatte in maniera molto semplice. Io mi trovo qua anche una posizione, cioè mi trovo il profilo altimetrico già espresso, e questo lo posso andare a esportare, e me lo permette, mi permette di scaricare il file proprio GPX, che se io adesso vado ad aprire con un file, con un editor di testo, vado a vedere come è fatto dentro. Per esempio, vedete, è un file che potete leggere e modificare anche a mano, volendo. Non ve lo consiglio, ovviamente, però è molto semplice. Per esempio, ho un track, che è la traccia, e una serie di punti che, in coordinate geografiche, espresse su VGS84, in formato frazionario, quindi ho la latitudine e la frazionaria latitudine. Questo è molto... cioè, saper modificare un GPX è molto comodo, perché nel caso vogliate o unire due tracce, o togliere dei pezzi, lo potete fare abbastanza facilmente. Con editor lo fate molto prima, ovviamente. Però potete, volendo, anche fare a mano, nel senso che io prendo questi punti e li tolgo, il file continua a funzionare. Ovviamente fate una copia prima di fare elaborazioni sui file stessi. Penso che lo lasciamo fare a voi, ingegneri, questa cosa qua. Io cancello e riparto da zero. No, ma sai, a volte capita che o sbagli a AV il GPS prima e ti fa, che so, cinque minuti di rumore. Adesso, se lo carico, questa informazione poi la caricate, che so, su Strava o su Komoot, in genere, viene filtrato in automatico, perché ti trova la stessa posizione. Però una volta non era così. Oppure vi si pianta il dispositivo, mentre state andando in bici e dovete chiudere e far ripartire la traccia, le volete unire. Con un programmino di questi lo fate facilmente, diciamo. Ovviamente non mi stavo dicendo di sistemare a mano le robe, però diciamo che è possibile farlo.